Un muro crollato oltre due anni fa, ma rimasto un pericolo costante per l'incolumità dei residenti e dei passanti. E' l'increscioso scenario che si presenta in Viale dei Comuni al Civico 163, dove un muro di pietra e cemento è crollato a causa di una forte ondata di maltempo, ma che nessuno è riuscito a sgombrare o a sistemare, ancora dopo tanto tempo. L'accumulo di macerie è diventato una discarica abusiva e un ritrovo abituale di topi. Si trova alle spalle di un edificio di sei piani adiacente al campetto. Era di proprietà delle sue russoline, poi venduto con tutto l'appezzamento di terreno a privati. I residenti allarmati hanno contattato più volte il sindaco, ma la situazione pericolosa permane, nonostante alcuni sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali. L'allarme è la protesta di alcuni residenti che, in transito pedonale, hanno corso un rischio per la propria incolumità, perché un'altra parte di muro è crollata al loro passaggio. Invitano, pertanto, l'amministrazione comunale ad intervenire fattivamente, prima che possano verificarsi i danni alle persone. La zona, tra l'altro, è frequentata da ragazzini.